In Italia esiste un tessuto di associazioni musicali che è un patrimonio prezioso. Le scuole popolari di musiche, tra queste la scuola di Don Olimpia, forniscono un servizio fondamentale per le nuove generazioni, insegnano ad ascoltare se stessi e gli altri, ed hanno bisogno di strumentazione, di ausili per andare avanti. Alle difficoltà del rapporto con le istituzioni si è aggiunto recentemente un furto serio all'interno della scuola. Sentiamo quindi di poterci rivolgere a tutti gli amici e sostenitori perché con il loro aiuto ci consentono di proseguire nel nostro lavoro. Grazie per tutto quello che vorrete fare.